Buon pomeriggio, buona domenica, bentrovati a questo consueto appuntamento con il repiloro dei principali fatti della settimana. Cominciamo da lunedì 18 febbraio, la serrata dei laboratori di analisi, serrata che è stata minacciata appunto da questi centri sanitari in un contenzioso con la regione siciliana. Vediamo. Interrotta la tregua, i laboratori di analisi sono pronti alla serrata per una settimana, a partire da giovedì prossimo. Se non riceveranno risposte al governo regionale in merito al taglio dei rimborsi, circa 400 strutture sparse su tutta l'isola chiuderanno i battenti. La decisione è stata presa da Federbiology e Lysan, due delle sigle più rappresentative, e che finora avevano assunto un atteggiamento più morbido. La protesta è scoppiata nei giorni scorsi con la pubblicazione del nuovo tariffario regionale sui rimborsi che la regione eroga ai laboratori convenzionati sulla base delle analisi effettuate ai pazienti. Il decreto dell'assessore Lucia Borsellino taglia mediamente il 40% i contributi a effetto retroattivo. In sostanza chiede alle 650 strutture dell'isola di rimborsare la differenza percepita negli ultimi cinque anni, che in totale ammonterebbe circa 150 milioni di euro. Questo perché fino ad oggi era in vigore un vecchio decreto con tariffe più vantaggiose, mentre un altro decreto penalizzante per i laboratori era congelato da una serie di ricorsi. Una sentenza del CGA ha stabilito che le tariffe di riferimento debbano essere quelle del decreto meno vantaggioso e così è esplosa la protesta. Domani l'incontro con l'assessore Lucia Borsellino per cercare di evitare la serrata. Rimodulare le risorse del piano barca per poter realizzare una serie di interventi per favorire il rilancio dell'occupazione giovanile. Lo ha chiesto la CGL Sicilia all'Assemblea regionale siciliana durante la presentazione del piano lavoro per i giovani. La CGL sbarca Lars presenta un piano per il lavoro che potrebbe concretamente aiutare i giovani attraverso la rimodulazione del piano barca in modo da poter realizzare subito una serie di interventi per favorire il rilancio dell'occupazione. La nostra richiesta al governo regionale ha detto Ferruccio Donato, reggente della CGL Sicilia, è di un piano complessivo che faccia leva su tutti gli investimenti possibili cominciando da quelli dell'Unione Europea. Secondo i dati forniti questa mattina dal sindacato, il quadro è sconfortante. La disoccupazione giovanile è passata dal 38,5% del 2009 al 42,8% del 2011. Una giovane donna su due senza lavoro e 319.000 sono le persone che non studiano, non lavorano e non cercano lavoro. Crescente poi la precarietà del mercato con 8 contratti su 10 non a tempo indeterminato e un sistema di istruzione con molti problemi. Ecco allora la richiesta di applicare la garanzia a giovani raccomandata dall'Unione Europea che consiste nell'impegno da parte dei centri per l'impiego di garantire agli under 30, entro 4 mesi dalla perdita di un impiego o al termine degli studi, un'offerta di lavoro, un corso di perfezionamento, un contratto di apprendistato o un tirocinio di qualità. Il sindacato ha sollecitato anche il varo della legge regionale sulla regolamentazione degli stage, argomento su cui è promosso un disegno di legge ed iniziativa popolare che si è fermato per la fine della legislatura a Lombardo. E' ancora una legge sul diritto allo studio per gli studenti medi, in considerazione anche dell'alto tasto di abbandono scolastico e per l'università che scontola oggi. Una carenza di menze, di alloggi per gli studenti e problemi per quanto riguarda i trasporti. E' la mattina di martedì 19 febbraio un corteo di lavoratori GESIP è partito da Piazza Pretoria e ha fatto tappa a Palazzo Dornean per chiedere un incontro al presidente della regione siciliana Rosario Crocetti. I lavoratori sperano in una rapida conclusione della avvertenza lavorativa che li vede coinvolti. La GESIP torna in piazza e va direttamente a bussare alla porta del presidente della regione per chiedere un incontro. In rappresentanza dei lavoratori questa volta potrebbe esserci anche il sindaco di Palermo che, reduce da incontri e telefonate romane che non hanno portato nessuna novità se non altre promesse a cui i lavoratori non credono, adesso potrebbe vedersi con il presidente della regione per provare a risolvere i guai di 1800 famiglie. Intanto però la città è semiparalizzata e Palazzo Dornean assediato. Al centro delle proteste è proprio il magro bottino portato da Orlando. Solo altre promesse a cui non crediamo urlano i lavoratori. Il primo cittadino ieri sera ha diramato una nota in cui si poteva leggere che sì, ha incontrato il ministro del lavoro Elsa Fornero, ha avuto dei colloqui telefonici con il segretario generale del Dicastero Matilde Mancini e con il direttore generale dell'Inps Mauro Nori e ha ricevuto la conferma della necessità di individuare l'intesa con la regione forma di sostegno al reddito dei lavoratori fino al 2 maggio, quando potranno riprendere le attività e i servizi alle città. Tutto fermo dunque, fine primi di maggio, con i lavoratori a casa, i soldi che spariscono dalle casse comunali per poi riapparire e il sindaco che si presta ad uno scontro istituzionale in piena regola, giocato sull'equivoco di un piano che è ancora in una fase iniziale e in attesa di numeri dell'Inps, che dovrebbero arrivare in settimana e consentire una versione più dettagliata da mandare a Roma. Intanto le ipotesi di privatizzazioni ed esternalizzazioni sono ombre sempre più reali e i lavoratori, per ennesima volta in piazza, sono stanchi di vivere una campagna elettorale sulle spalle loro e delle loro famiglie, mentre la Regione e il Comune si rimpallano le responsabilità. E a questa manifestazione della GESIP di martedì hanno partecipato in maniera unitaria a tutti i sindacati. Ascoltiamo. Avete chiesto un incontro col Presidente della Regione? Sì, abbiamo chiesto un incontro anche perché lui si è messo davanti per dare una sombra di denaro al Comune di Palermo per sbloccare la situazione occupazionale della GESIP. In dieci milioni che ha già versato alla Cassa Comunale. Ora aspettiamo altre risposte perché ieri c'è stato un incontro a Roma e dobbiamo vedere appunto il punto della situazione. Noi ci aspettiamo di andare soltanto a lavorare, iniziare di nuovo a produrre per la città di Palermo. Questa è una macelleria sociale che deve smettere, perché se uno va nei siti comunali basta farci dare un'occhiata a come è combinata Palermo, dal verde al canile, alla piscina comunale, al cimitero, servizi che noi espletavamo anche nel migliore dei modi, ma lo espletavamo. Ora Palermo è completamente abbandonato a se stessa. Già da due mesi che siamo senza stipendio, dal punto economico siamo atterrati, completamente siamo con le spalle al muro. Cioè nel senso che non abbiamo più le risorse per continuare a campare, a vivere con le famiglie. Un esempio è che c'è gente che non può fare neanche la spesa, è chiaro. Ritorneremo come quattro mesi fa che dobbiamo andare alla Caritas per fare i pacchi d'ono, diciamo. E non ci vogliamo arrivare sotto la campagna elettorale specialmente, perché non vogliamo essere prodotti di scambio a livello politico. La Commissione europea non finanzierà più eventi sportivi, fiere o manifestazioni culturali delle regioni. Adesso in Sicilia bisognerà correre ai ripari. Il supporto a eventi sportivi, culturali, turistici, promozionali e di intrattenimento non deve essere finanziato dal FESR per via del loro scarso valore aggiunto. Con questa inequivocabile dichiarazione la Commissione europea ha messo una pietra tombale sul collaudato meccanismo dei fondi europei che negli ultimi anni aveva consentito un afflusso di denaro spesso davvero difficile da giustificare per il finanziamento di iniziative che in Sicilia non hanno mancato di alimentare più di un dubbio. Per i prossimi anni dunque dal 2014 al 2020 la regione siciliana non potrà contare sui fondi comunitari per organizzare tutto quel genere di cose che l'assessorato al turismo aveva promosso, anticipando i soldi fino a ora. E se si tiene conto che l'ultima programmazione, quella 2007-2013, aveva fatto convergere in Sicilia ben 70 milioni di euro, è evidente che la direttiva europea rappresenta un bel problema. Dunque, se ancora in Sicilia si vorranno finanziare presepi viventi, sagre del couscous e via discorrendo, i soldi andranno individuati nel bilancio regionale e non più nel portafoglio europeo. In realtà l'Unione Europea non vuole che nelle varie regioni si smetta di promuovere il turismo, semplicemente si chiede di dimostrare chiaramente l'impatto esercitato sul raggiungimento degli obiettivi. Insomma, d'ora in poi, per approvare i finanziamenti, l'assessorato non dovrà più badare soltanto alla correttezza finanziaria, ma alla reale validità degli eventi da promuovere sia in termini culturali sia turistici. Mercoledì 20 febbraio è stato siglato l'accordo tra i laboratori di analisi da una parte e l'assessorato regionale della sanità dall'altra. La regione rinuncia per il momento al recupero delle somme, dunque i laboratori non sciopereranno più. È stato siglato l'accordo tra i laboratori di analisi e l'assessorato regionale alla salute dopo l'avvertenza dei giorni scorsi. Rientra dunque la protesta e fine dello sciopero dei laboratori in Sicilia. Stop al recupero delle somme e verifica della situazione riguardanti i ricorsi pendenti al TAR sono i punti dell'accordo che si è raggiunto solo in tardanotte tra l'assessore alla salute, Lucia Borsellino, e di sindacati di categoria. La protesta era scattata per la richiesta dell'assessore di recuperare le somme indebitamente incassate a seguito dell'applicazione del cosiddetto tariffario Bindi. La Borsellino ha accolto così buona parte delle richieste dei titolari dei laboratori che avevano denunciato il rischio di collasso del settore con conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro. Si tornerà dunque a rispettare il vecchio tariffario regionale con il congelamento del nuovo tariffario frutto di un decreto dell'allora ministro Bindi che è rimasto finora disapplicato dopo una sfizia di ricorsi che ne avevano sospeso l'efficacia. Con l'accordo di ieri la regione rinuncia al recupero delle somme incassate dai laboratori attraverso il vecchio tariffario. Rimane aperto l'esito della vicenda visto che l'assessorato ha chiesto un parere all'avvocatura dello Stato in merito ai presunti rimborsi. Presentato presso la Sala Rossa di Palazzo dei Normanni a Palermo il rapporto annuale sul sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati. La cosiddetta primavera araba il flusso migratorio di cittadini provenienti dal Nord Africa ha messo a dura prova le strutture di accoglienza per i richiedenti asilo e di rifugiati ed anche la Sicilia ha fatto la sua parte. È quanto emerso durante la presentazione del rapporto annuale sul sistema di protezione per i richiedenti asilo politico e di rifugiati. La regione Sicilia infatti con 17 enti locali coinvolti e 892 cittadini stranieri presi in carico dal progetto evidenzia la stretta vicinanza culturale e geografica con i paesi rivieraschi del Mediterraneo, teatro troppo spesso di guerre e rivoluzioni sfociate nel sangue. È doveroso allora che le istituzioni centrali e locali, realtà non governative, enti di tutele ed operatori sul campo debbano condividere l'idea che l'accoglienza non può essere improvvisata ma debba essere programmata e progettata secondo precisi standard di intervento. Su piano culturale c'è ancora molto da fare? C'è innanzitutto la riforma della pubblica amministrazione, cioè la nuova cultura della pubblica amministrazione, il rendersi istituzioni e veramente cultori dell'interesse pubblico. La diversità può essere una ricchezza? La diversità è una ricchezza ed è una risorsa, ma non lo sfruttamento della diversità, cioè ecco, perché finora si va nella logica dello sfruttamento della diversità per ragioni di lavoro. Quante ditte hanno, usufruiscono con il lavoro nero di questa povera gente? E magari poi i cittadini siciliani diranno ma vedi questi ci tolgono il lavoro a noi, ma magari non saranno neanche disponibili a fare quel lavoro perché se voi andate nei ristoranti ma quanti ne trovate di camerieri italiani? Il dramma per lo sport siciliano è enorme, la regione non stanzia più fondi e noi assistiamo a una grande fuga di tesseramenti. A dirlo il consigliere nazionale del CONI, Luigi Musacchia, che ha fatto un appello all'amministrazione regionale per chiedere una nuova legge sullo sport. La prima cosa da fare è fare una nuova legge per lo sport. La legge esistente è una vecchia legge, una legge che è data a 1978 e la legge 8, copiata poi da tutte le altre regioni italiane ma che adesso ha fatto il suo tempo. Soprattutto adesso non ha più i capitoli finanziati e quindi è nella totale impossibilità di dare il sostegno alle attività di base che vengono svolte da tutte le associazioni che si occupano sia di avviamento allo sport che poi quindi il sostegno all'attività agonistica di tutte le squadre. Il numero delle associazioni affiliate alle federazioni sportive nell'ultimo quadriennio ha avuto una discesa enorme con punte del 45% di abbandoni ed evidentemente perché? Perché i presidenti delle associazioni non sono più nella possibilità di poter esprimere quella capacità finanziaria che aveva prima un sostegno da parte del pubblico della regione siciliana e adesso non lo ha più. Questo è un fatto grave, significa anche un grande numero di tesserati, di associati che abbandona quell'attività o cerca altre attività che evidentemente non sono quelle per cui nel suo mondo ha fatto la scelta io uguale questo sport. Il dramma è enorme, abbiamo dei capitoli di spesa non finanziati dall'attuale bilancio, se questo non si provvede in termini rapidi questo bilancio rischia di incartapecorire lo sport siciliano. Giovedì 21 febbraio la Guardia di Finanza ha denunciato alla Procura della Repubblica di Palermo 12 politici con l'ipotesi di violazione della legge sul finanziamento ai partiti, coinvolti anche ex amministratori e dirigenti del Ciappi, l'ente di formazione professionale da tempo al centro di molte polemiche. L'inchiesta è coordinata dal pool pubblica amministrazione della Procura della Repubblica di Palermo guidata da Leonardo Gueci e promette sviluppi certi nel campo della formazione professionale a finire ancora una volta al centro della bufera il Ciappi, un ente di formazione tra i più chiacchierati. Sotto la lente di ingrandimento della Procura 12 politici regionali e comunali che avrebbero ricevuto soldi per le campagne elettorali del 2008 e 2012, le comunali di Palermo e regionali da una serie di società che operano nel settore della formazione professionale e della comunicazione. Soldi che risulterebbero alla voce uscita delle società ma che non sarebbero stati registrati in entrata dai politici tenuti per legge a rendere conto di cifre e nomi dei finanziatori. In particolare al centro dell'inchiesta ci sarebbero due progetti milionari, il Corap che prevedeva uscite per 10 milioni di euro e Futuro Semplice che aveva a disposizione 40 milioni da impiegare ma fu bloccato dalla Corte dei Conti. Troppi soldi in ballo si disse. Grazie a questi due progetti con ogni probabilità si poteva esprimere riconoscenze politici comprando per loro volantini elettorali e quant'altro. Oggetto dell'informativa del nucleo di pulizia tributaria tutti nomi eccellenti come gli ex assessori regionali Luigi Gentile, Santi Formica e Carmeli in Cardona e anche Francesco Scoma che dice di cadere dalle nuvole e poi Lino Leanza e Francesco Cascio che in quel periodo fu il presidente dell'Ars che dice di non saperne niente. Con loro anche il deputato PDL Salvino Caputo che minaccia querele, Gasperi Vitrano peraltro già sotto processo per concussione e Nino Dina oltre al responsabile legale del PID Mimmo Di Carlo e l'ex vicepresidente vicario del Consiglio Comunale di Palermo Salvo Lotta. Nessuno di loro è indagato ma sono tutti denunciati alla Procura della Repubblica. La vicenda è ancora aperta ed è ancora tutto da scrivere ma rimane un fatto. La politica ancora una volta si ritrova coinvolta in affari dubbi e ancora una volta si vede costretta a dover replicare che no, nessuno ne sa niente o che perlomeno nessuno ha finanziato niente. A Palermo è nato uno sportello per denunciare l'abusivismo edilizio, protocollo di intesa siglato tra il Comune e l'Associazione Liberi Professionisti. Sono oltre 51.000 a Palermo le particelle catastali dove secondo l'Agenzia del Territorio sono riscontrabili abusi edilizi. In Sicilia si trovano oltre il 10% dei casi di abusivismo riscontrati a livello nazionale. È quanto emerge dai dati contenuti nella delibera con cui l'Aggiunta Comunale ha deciso di sottoscrivere un protocollo di intesa dal Comune e l'Associazione Liberi Professionisti, composta da tecnici del settore edilizia che, a titolo gratuito, offrono la propria disponibilità a fare da interfaccia fra l'amministrazione e cittadini per raccogliere segnalazioni sui casi di abusivismo anche in forma anonima. L'iniziativa si chiama SOS Abusivismo. Serve a raggiungere un doppio obiettivo, ha detto il Sindaco Lelucorlando, contrastare il fenomeno dell'abusivismo in termini di repressione e anche, direi soprattutto, far crescere la consapevolezza civile sui rischi legati a questo fenomeno criminale, stimolando la partecipazione attiva dei cittadini al controllo del territorio. Per l'assessore comunale al Centro Storico Agata Bazzi è più che evidente che l'abusivismo ha un legame diretto con l'economia nera e sommersa, che anche quando non direttamente legata al crimine organizzata, ne è comunque una fonte di alimentazione sociale ed economica. L'intesa sarà sottoscritta nei prossimi giorni. In un secondo momento l'associazione attiverà uno sportello a cui potranno essere inoltrate le segnalazioni. Venerdì 22 febbraio la polizia ha arrestato 5 giovani palermitani con l'accusa di furto e aggressione nei confronti del titolare di un noto locale della Movida Cittadina. I ragazzi decisero di non pagare la consumazione e dopo la segnalazione alla polizia aggredirono il titolare del pub. Un vero e proprio branco che decide in autonomia che un uomo si può e si deve punire. È la storia di quella che normalmente potrebbe essere una serata fuori con amici e che si trasforma a distanza di pochi giorni in aggressione. Tre giovani decidono di uscire e di postare la sera in un noto pub di Piazza Unità d'Italia ma lo fanno a danno del gestore del locale colpevole di chiedere il denaro per ciò che era stato appena consumato provocando la fuga dei giovani senza pagare. Scatta allora la chiamata alle forze dell'ordine cosa che fa infuriare il gruppo che giura vendetta a Derida e provoca il titolare del pub fino ad arrivare alle maniere forti, alle mani o per meglio dire alle spranghe. È un branco che opera in un pestaggio non da singolo ma proprio come definito dal pubblico ministero e dal GIP in apposita ordinanza è un intervento di branco. Il pestaggio ha origine da un intervento svoltosi da parte delle forze dell'ordine che intervengono in ausilio uno dei titolari del bar pub Mozzica di Piazza Unità d'Italia poiché quattro giovani avevano fatto ingresso, avevano consumato dello champagne ed uno di loro approfittando di un attimo di distrazione del titolare era andato via senza pagare portando con sé questa bottiglia. Gli altri tre ritenevano, avevano dichiarato di non conoscere quell'avventore per cui fisiologicamente il cittadino ha chiamato in ausilio le forze di polizia. Fatto l'intervento il titolare si vede ripassare i giovani che poco prima si erano allontanati con la bottiglia di champagne e si vede contestare, già minacciare con frasi del tipo non sai cosa ti succederà per essersi permesso di invocare l'aiuto delle forze dell'ordine. Di lì a pochi mesi un pestaggio inaudito con una ferocia e una violenza inaudito con spranghe addirittura queste persone sono dei giovani palermitani che riunitisi in branco hanno voluto affrontare questo titolare imponendo, ribadisco, una ferocia e una crudeltà inaudita la legge che delle forze dell'ordine si può fare a meno e di fronte all'arroganza nessuno deve permettersi di chiedere aiuto o peggio ancora replicare con l'intervento. Secondo gli inquirenti tra gli arrestati spicca per attività e violenza il 19enne Giuseppe Farinella nipote del vecchio boss di San Mauro Castelverde, un comune del Palermitano ed è attualmente all'ergastolo perché è coinvolto nelle stragi del 92 e 93. Prevista per il primo marzo la sentenza del giudice fallimentare sull'Amia l'azienda che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti a Palermo intanto i tre commissari si sono dimessi. I tre commissari Amia, Sebastiano Sorbello, Paolo Lupi e Francesco Foti nominati dal Dicastero dello Sviluppo Economico hanno rimesso il proprio mandato nelle mani del ministro Corrado Passera. Dimissioni che però diventeranno esecutive con la sentenza del Tribunale fallimentare sull'omologazione o meno del concordato preventivo proposto dal Comune di Palermo. La sentenza è prevista per il primo marzo. Se il Tribunale dovesse dire sì alla proposta di Palazzo delle Aquile l'azienda verrebbe divisa in una new company controllata al Comune e in una bad company guidata da un curatore indicato al Ministero. Ma a quel punto Piazza Pretoria si troverà con l'obbligo di dover dare seguito al concordato che prevede, fra le altre cose, l'adeguamento del contratto di servizio con un aumento di 9 milioni di euro e la garanzia di poter coprire le perdite che si andranno creando. Nel caso in cui il Tribunale non accetti l'azienda sarà dichiarata fallita una prospettiva che si potrebbe spiegare solo con la mancata risposta del Comune alle richieste di garanzie avanzate dai giudici e dal Ministero. Manifestazione molto partecipata a Villabate in provincia di Palermo per protestare contro i vandalismi nelle scuole. La scuola pubblica nell'ultimo periodo, soprattutto a Villabate, subisce degli attacchi non indifferenti. Il problema non riguarda solo l'asilo nido. Noi abbiamo subito come scuola primaria ben 20 incursioni. Ci sono 20 denuncei carabinieri che hanno praticamente distrutto tutti quelli che erano i beni che con sacrificio si erano ottenuti con fondi europei. Basta alla violenza, basta agli atti di vandalismo, basta bullismo, basta tutto ciò che non è legalità. Questo messaggio è partito nel mese di maggio e sta andando avanti velocemente e progressivamente sta crescendo. Questo è il cambiamento che noi vogliamo a Villabate. Villabate deve essere il paese della legalità. Questi atti stanno danneggiando il bene comune, stanno danneggiando le scuole dei nostri figli e questi atti devono finire. La gente deve capire che non si può andare avanti non avendo il rispetto delle cose pubbliche. Oggi la manifestazione, i bambini presenti, le scuole presenti hanno detto questo. Speriamo di toccare la sensibilità di questi signori che non hanno il rispetto per le cose dei altri. Siamo qui costantemente a rispondere a ogni atto di vandalismo che induce a portare un malessere a questo paese. Vogliamo che Villabate cambi, che Villabate sia una Villabate fatta di legalità, di pace, di giustizia, di amore, di rispetto, di solidarietà e non un Villabate martoriato da questi vili atti vandalici che ripetutamente si verificano. E' ora di dire basta e vogliamo che tutti scendano in piazza, non soltanto i bambini ma gli adulti soprattutto. Gli adulti che non restino dentro le loro case a polemizzare, a criticare, ma scendano in piazza e con la loro presenza, solo con la loro presenza dire basta, è ora di cambiare, è ora di metterci in gioco, è ora di migliorare, è ora di dire anche a quanti continuano a mettere in prima pagina notizie negative, di dire basta, vogliamo proporre nuove iniziative, iniziative che diano veramente un raggio di speranza e di luce verso questo paese. Per questa settimana è davvero tutto, io vi ringrazio per averci seguiti, vi auguro ancora una buona domenica. Arrivederci. Grazie. Grazie.